Si è svolto sabato 24 ottobre a Rocella Ionica il primo convegno di musicoterapia. La musicoterapia è una modalità di approccio alla persona che utilizza la musica o il suono come strumento di comunicazione non verbale per intervenire a livello educativo, riabilitativo o terapeutico in una varietà di condizioni patologiche e parafisiologiche. La musica dà alla persona malata la possibilità di esprimere e percepire le proprie emozioni, dimostrare o comunicare i propri sentimenti o stati d'animo attraverso il linguaggio non verbale. Ai nostri microfoni hanno parlato Caterina Zappia, presidente dell'associazione FIDAPA della sezione di Rocella Ionica che ha affermato come musica e poesia riescono spesso a dare grande forza nei momenti di sconforto. Questo incontro di questa sera è stato voluto da tutte le socie, in conferma di quello che noi siamo, perché praticamente noi divulghiamo la cultura. Ho sempre ritenuto e quindi l'ho anche proposto che la musica come la poesia ha una grande forza che va oltre i suoi limiti. La musica è vita, la musica dà quella possibilità a un essere umano di andare avanti nei momenti di sconforto, un po' come la poesia. Anche Patrizia Pellegrini, felice di aver partecipato a un convegno del genere, ha spiegato come cibo e musica spesso insieme sono utili a tutto il corpo e possono far metabolizzare il bene dell'anima. Felice di aver partecipato a questo convegno perché per me l'arte della relazione non è soltanto il cibo in quanto tale, ma tutte le emozioni che il corpo sa metabolizzare. Quindi musica, parole, sensazioni, emozioni, cibo, sono un tottuno per il benessere della persona. E ringrazio la presidente della FIDAPA, Caterina Zappia, proprio per avermi voluta qui tra i relatori per questo convegno. Ha parlato ai nostri microfoni anche Daniela Costantino, musicoterapeuta di professione, che ha affermato quanto sia importante parlare di musicoterapia e comunicazione. Sono molto felice di essere stata invitata all'iniziativa organizzata dalla FIDAPA qui a Roccella questa sera perché è sicuramente una possibilità di veicolare, trasmettere e informare nella maniera più capillare possibile quello che è il mondo della musicoterapia ancora poco conosciuto che comunque cattura l'interesse e l'attenzione ed è sicuramente una delle opportunità di relazione, di conoscenza di sé e di comunicazione con l'altro da sé più efficaci tutt'oggi utilizzata. È intervenuta al convegno anche Emeida Mullari, cardiologa all'ospedale di Locri, che ha parlato della correlazione che intercorre tra musica e cuore che spesso migliora la qualità della vita. Musica e cuore che intende far valorizzare la vita di ognuno di noi, diciamo due parole, chi ascolta musica, preferibilmente musica classica, probabilmente migliora, sicuramente migliora la sua qualità della vita, ancora non sappiamo però se l'allunga. Io sono felice adesso di esserci e ci confronteremo con gli esperti. Musica e cuore che è il mondo della musica.